Forse questo è un invito a leggere finalmente questo libro e terminarlo? Ciao, io sono Veronica e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di tutti quei libri che ho iniziato a leggere e un bel giorno ho deciso di abbandonare. Perché, ebbene sì, sono una di quelle persone che abbandona i libri. E a volte li abbandono per un motivo, a volte li abbandono un po' a caso. E la maggior parte delle volte li abbandono a caso. Comunque, devo dire che sono stata abbastanza fortunata in questi anni da lettrice perché, bene o male, i libri che ho scelto di leggere poi li ho sempre finiti. O comunque mi sono sempre piaciuti e qui me la sono tirata. I prossimi libri non mi piaceranno. Vabbè, comunque iniziamo subito con il primo libro. Che è anche il libro che probabilmente non prenderò mai più fra le mani. Non deciderò mai più di riprendere la lettura e di terminarlo finalmente. Il libro in questione è Manifesto Cyborg. Parliamo di un saggio, un saggio molto difficile. Mi mancavano 20 pagine in realtà. Io ho letto quasi tutto il libro, ma sono arrivata a un punto in cui ho dovuto dirmi la verità. Quindi mi sono detta. Vero. Perché non accetti il fatto che non ci hai capito una mazza? Io ovviamente ho cercato di leggerlo, se non sarei arrivata quasi alla fine, ma ho dovuto appunto farmi questa domanda. Ho dovuto realizzare che forse questo libro, con il mio bagaglio culturale, non sono in grado di affrontarlo. Può essere che fra vent'anni io ne sia capace, ma molto probabilmente fra vent'anni io non ci riproverò. Perché è stato terribile leggere questo libro. Le poche cose che credevo di aver capito, perché io tra l'altro ci ho fatto pure delle orecchie, perché è qualcosa che io credevo di aver capito. Ma a meno che andavo avanti, invece mi rendevo conto che quello che avevo capito in precedenza probabilmente non c'entrava nulla con il libro. Quindi non ho capito niente. Dovrebbe cercare di scardinare il pensiero binario, il binarismo di genere che c'è nella nostra società con appunto la presenza di un cyborg, cioè ovviamente un saggio. Quindi dice, non è che forse il cyborg in futuro potrà smantellare il binarismo di genere e creare con la sua stessa natura una discussione su quello che è il genere e su quello che è la possibilità di creare qualcosa di più fluido, qualcosa che non debba per forza entrare in un'etichetta così stretta. Ecco, queste credo che fossero le premesse di questo saggio. In realtà leggendo non ho capito neanche le premesse. Cioè, per dirvi, non ho capito niente di questo libro. Comunque, se qualcuno invece ha capito qualcosa, io vi invito a scrivermi nei commenti che cos'è questo libro. Perché io mi sono sentita tremendamente ignorante nel leggerlo. Infatti, ripeto, ho cercato di leggerlo fino alla fine perché non potevo fare questa figuraccia, ma non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente. Andiamo avanti. Altro libro è sempre un saggio che è Lavoro di James Sussman. E' un antropologo. Questo saggio in realtà mi interessa moltissimo. Ho letto, ho letto, ho letto, ho letto, 60 pagine. Poi l'ho abbandonato non perché non mi stesse piacendo, non perché lo trovassi troppo complicato, anche se devo dire che è veramente ricco. L'ho abbandonato perché ho deciso di iniziare a leggerlo proprio mentre dovevo preparare l'esame di psicologia del lavoro. E siccome l'esame di psicologia del lavoro è stato un parto, non mi sembrava il caso di continuare su questo argomento. Quindi l'ho abbandonato per questo motivo. In realtà è un saggio veramente interessante perché cerca di ripercorrere la storia del lavoro, del concetto del lavoro. E' scritto veramente molto bene. Quindi conto di riprenderlo, anche non troppo è là con il tempo. Perché credo che sia un testo veramente interessante. Anche perché ho comprato di recente l'ultimo libro di Gancitano e con la Medici che parla proprio del lavoro. E' un tema che mi sta veramente molto a cuore. Quindi sicuramente lo approfondirò e lo riprenderò in mano questo libro. E in quel caso appunto vi farò sapere cosa ne penso e se è un testo che consiglierei. Altro libro è in questo caso un romanzo che è Il corpo che vuoi di Alexandra Kliemann. Questo romanzo io ho letto 80 pagine. Mi stava piacendo ma devo essere sincera. Io passo dei momenti in cui ho estremamente voglia di leggere saggistica e momenti in cui ho estremamente voglia di leggere romanzi. Il problema è che me ne rendo conto quando già ho iniziato a leggere. Cioè quindi io ho scelto di leggere un saggio e in realtà è uno dei momenti in cui vorrei leggere un romanzo. A volte porto avanti letture contemporaneamente, altre volte invece ritengo più opportuno terminarne una e lasciare indietro l'altra. E questo è stato il caso. Questo libro lo riprenderò sicuramente perché parla di identità, parla di corpi, parla della società attuale. Vede come protagonista una ragazzina di cui non si sa il nome ma viene chiamata A, che ha una migliore amica che viene chiamata B, ed è fidanzata con un ragazzo che viene chiamato C. E di che cosa succede? Innanzitutto la protagonista, quindi A, ci parla del rapporto che ha con il suo corpo e del suo controllo ossessivo. Infatti lei smette quasi di mangiare, si nutre soltanto di ghiaccioli e si parla anche di quello che è il rapporto molto dipendente che ha con il suo ragazzo. Si parla del rapporto anche di dipendenza con la TV, quindi i programmi televisivi e quant'altro. E anche il fatto che la sua migliore amica, quindi B, cerca sostanzialmente di imitare in tutto e per tutto la protagonista A. Quindi ci sono in realtà diverse tematiche all'interno di questo libro che dalle recensioni che avevo visto quando ho iniziato a leggere questo libro mi sembrava veramente interessante approfondirlo, proprio perché ha un modo non così comune di trattare queste tematiche. Quindi anche in questo caso lo riprenderò in mano, non è un no, ma l'ho lasciato in pausa, non è un vero e proprio abbandono, almeno lo è stato per il momento, ma tornerò su queste pagine perché voglio capire di più di questa autrice che tra l'altro è anche saggista, non ha scritto soltanto romanzi. Sì, questo dovrebbe essere il romanzo d'esordio dell'autrice se non sbaglio. Comunque, vediamo, vedremo, vedremo prima o poi. Altro libro che ho abbandonato in realtà qualche settimana fa, e anche in questo caso non l'ho abbandonato perché non mi stesse piacendo, ma perché parliamo di Antichi Maestri di Thomas Bernard. Thomas Bernard è un autore molto particolare, la sua scrittura non è facilissima, non è limpidissima, quindi quando ci si approccia alla sua scrittura bisogna avere una particolare attenzione, sicuramente non essere stanchi o stanche, perché è un testo, sono dei testi che richiedono attenzione, e fatica anche, almeno secondo me, non è proprio il romanzo che ti leggi così sotto l'ombrellone d'estate, ha bisogno di attenzioni, e io quando l'ho iniziato non sono riuscita a dargli queste attenzioni che richiedeva, quindi ho deciso di metterlo anche qua in stand-by per un tempo indeterminato, non so quando lo riprenderò, ma sicuramente succederà, perché è un autore che mi piace, è un autore che voglio leggere di più, e qua parla da quello che ho capito, dalle poche pagine che ho letto, mi sembra che cerca di riflettere sul concetto di arte, non intesa soltanto come pittura, quindi quadri, eccetera, ma anche come musica, come scrittura, insomma l'arte vista da tutti i punti di vista, e di come questa abbia un'importanza nella vita degli esseri umani, ma vi dico, non so di preciso che cosa ci sia in questo libro, perché poi leggere le trame dei libri di Bernard sono sempre un po' vaghe, poi la ricchezza delle pagine la si assapora nel mentre che si legge, quindi diciamo che l'aria dovrebbe essere questa, ma ovviamente non so dirvi di più, perché ho letto 20 pagine, e quindi niente. Ah, il libro di cui vi parlo adesso è Canne al vento di Grazia De Leda, che è un libro, non ricordo quante pagine ho letto di questo libro, sono passati ormai un po' di anni, devo essere sincera, e l'ho abbandonato principalmente perché trovavo la sua scrittura un po' troppo artificiosa, almeno per quelli che sono i miei gusti, ma in realtà pensandoci maggiormente credo che sia anche legato al fatto che diciamo che sono sempre stata una grande lettrice di saggistica e i romanzi, la narrativa sono entrati nella mia vita in modo continuativo soltanto da pochi anni, perché prima leggevo soltanto saggi e magari leggevo due o tre romanzi all'anno, il resto era tutta saggistica, quindi quando ho deciso di dedicarmi di più ai romanzi, ho iniziato leggendo questo libro, e forse non è stata la scelta migliore, ottimale, perché comunque è una scrittura particolare, è un libro che è stato scritto nei primi del Novecento, quindi non è proprio facilissimo da leggere, ha la struttura di un classico, quindi per chi non è abituato o abituata a letture di questo tipo, credo che possa essere più difficile entrare nel libro, nella storia e comprenderla. Per quanto riguarda la trama, ho in realtà letto, poco prima di registrare il video, sarò sincera, ho letto la trama online, che in realtà è molto diverso da quello che c'è scritto dietro al libro, questa è una vecchia edizione e mi sembrano due trame diverse, quella che leggo online e quella che leggo qui dietro. Non ho letto tante pagine di questo libro, quindi non so quale delle due sia quella che ha ragione, quella giusta, non ho assolutamente idea, però comunque qua parla di questo servo che adesso lavora come ex-servo, che lavora come maggiordomo per questa famiglia nobile, dove ci sono queste tre donne e tre sorelle e in poche parole mi sembra di aver capito che questo ex-servo abbia commesso un delitto nel passato e che tenti per tutto il tempo di nasconderlo, di camuffarsi, quindi non lo so, le premesse mi sembrano queste, perché vi ripeto, online ho trovato una cosa e qua dietro ce n'è scritta un'altra, quindi non ho assolutamente idea di dove sia la verità. Forse questo è un invito a leggere finalmente questo libro e terminarlo? Chi può dirlo? L'ultimo libro che ho abbandonato è, ahimè, di nuovo un testo di saggistica. Un testo di saggistica interessantissimo, è scritto anche molto bene, che io ho abbandonato di nuovo per il motivo di prima, cioè poco prima, cioè che vi ho detto prima, ed è il fatto che ho iniziato a leggerlo pensando di aver voglia di leggere un saggio, ma in realtà avevo voluto leggermi un bel romanzo, quindi l'ho abbandonato. Il libro è per piacere, che sarebbe la storia culturale della chirurgia estetica, ed è scritto da Rossella Ghigi. Ha un po' una panoramica storica e culturale su quella che è stata la storia della chirurgia estetica, quindi come è nata, quali sono stati i motivi, perché si è deciso di fare uso di appunto chirurgia estetica, da dove nasce questa cosa, ed è molto interessante perché già dalle prime pagine mi ha aperto un mondo che assolutamente non conoscevo, e ovviamente anche qua, ancora una volta, è un saggio che riprenderò in mano perché è una cosa che voglio assolutamente leggere e voglio capire qualcosa in più anche per comprendere come noi oggi vediamo la chirurgia estetica e spero che questo libro possa aiutarmi a fare questa cosa qua. Quindi i libri che vi ho mostrato in realtà di veramente abbandonato, cioè proprio basta, non ti voglio più vedere, c'è solo Manifesto Cyborg. Gli altri libri sono libri che ho messo in stand-by, però li considero comunque abbandonati perché non so quando li riprenderò in mano e conoscendomi potrebbe anche succedere che io non li riprendo in mano mai più, ma non è questo il mio intento principale. Quindi insomma, vivendo vedremo che cosa succederà a questi libri, se li leggerò o se un giorno mi ritroverò a venderli per inutilizzo, perché stanno facendo polvere sul comodino, sul comodino? In libreria. Non so perché dico spesso sul comodino quando voglio dire libreria. Fatemi sapere se anche voi siete persone che abbandonano libri senza pensarci tanto, senza pensarci due volte, e perché li abbandonate, ma soprattutto se avete intenzione di riprenderli un giorno oppure ve ne volete dissuare al più presto. Scrivetemelo nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima.